Ciao a tutti io sono Ambra e oggi facciamo un'altra challenge visto che l'altra volta è piaciuta e facciamo la fusione challenge nel senso che peschiamo due di questi personaggi e li fondiamo quindi si possono fondere e fondiamoli insieme che facciamo uno tu uno io o tutti io? vabbè oggi è mia responsabilità mia è vendato perché già io so pregante quello che sto pescando ok non vale perché li ho mischiati vedrai tu come no è andata malissimo kratos no il bagulio è pelatone ma immagina se si deve fondere con una ragazza kratos ma dai spiden è vero bene master chief no vabbè sono impossibili da fondere bomba colpa di daniele ragazzo io non so mai più chiesto non lo so lì chi è Master Chief pescate un altro personaggio secondo me Master Chief ha eliminato non c'era no anche perché questa challenge si dovrà effettuare in 30 minuti non penso non penso che c'è no, perché l'hai rimesso dentro Kratos di standipatico non lo vuole fare Kratos lo devo farlo per forza ma puoi dare più responsabilità vai uno d'uno io dai Korts io sono giro sì è uscito Kratos e Spider-Man Spider-Pratos no, sì quindi dovrà essere Kratosman aspetta come si chiamerà? Kratosman Spider-Pratos no Kratosman noi Kratosman non sono amato Spider-Pos Spy-Tos 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 vediamo siamo sicuri di queste tue immagini ok queste sono le immagini che fonderemo insieme questa sì che è una sfida ragazzi questa sì che è una sfida aspetta io metto in 30 minuti subito voglio fare il furbo lui ne? aspetta devo mettere il timer il timer lo so che stai fremendo guarda quanto sono bene lì se io in 30 minuti non riesco a fare manco la faccia decente 30 minuti un secondo? guarda che devi anche inchiastrarli no allora perché devo fare 10 minuti? già 10 minuti ci metto per guardare e come fai a fare vedere che hai spade? dovete riprendere inchiastrarla almeno devi colorare un poco allora in 30 minuti dobbiamo fare il disegno e poi se 30 minuti è completa se ci riusciamo 30 minuti e anche inchiostrare inchiostrare cioè di mettere almeno un pochino scoppa spider-man non distrari io e il colore va bene signori e signori mi aspetta fermo cuccia a sfida in 45 minuti fusione tra kratos e spider-man tra 3 2 1 vai un pochino scoppa 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti